ragazzi buonasera e bentornati sul mio canale youtube ma tranquillo ora mangiate fate tutto quello che dovete fare poi quando avete un attimo di tempo vedetevi questo contenuto parliamo di milan parliamo ovviamente di milan perché quello che è successo oggi con leao che risponde è ancora più grave di quello che è già successo dopo la partita con la lazio allora ragazzi ho già fatto dei contenuti però qui voglio andare oltre e parlare anche della società e di alcune dinamiche molto importanti quello che è successo al cooling break l'ho già commentato per me ho fatto allucinante che sui social si vada a giustificare quella roba lì è ancora più grave l'ho già detto ragazzi e lo ripeto qui sul mio canale youtube e soprattutto che il milan attenzione a questo che il milan perdoni certi atteggiamenti questo è ancora ancora più grave perché è diseducativo l'ho già detto mille volte in mille interviste in mille contenuti è diseducativo per chi guarda la televisione è diseducativo per i ragazzi che riconoscono in teo e leao degli idoli eccolo la diseducazione e il milan che gli perdoni è ancora la cosa più grave perché domani il ragazzino va al campetto perché domani il ragazzino in qualsiasi campo in cui l'allenatore parla se ne sta là come leao e teo è stato perdonato se ti perdona il milan caro mister mi per poi perdonare anche te ecco dove si va ecco la diseducazione ecco l'informazione sbagliata signori si sta parlando di due giocatori che hanno indossato la fascia di capitano del milan e vi dico la mia se era successo ai tempi di gattuso maldini caca sedorf costa curta questi due giocatori venivano attaccati agli spogliatoi venivano attaccati agli spogliatoi e se c'era una società dietro se c'era una società dietro intanto non faceva fare il tweet o il post alleao ma alleao ma glieli controllano social o no ragazzi ma posso dire una cosa questo ricondivide anche un tweet di cardinale porco cioè non condivide un tweet di antonio e beppe cardinale porco e lo pubblica alla follia siamo cosa rispondi cosa serve rispondere leao aperta e chiusa parentesi torniamo alla società la società doveva intervenire multare questi due giocatori dare un esempio al gruppo per la mancanza di rispetto che ha avuto il gruppo in questi due giocatori quindi la società è stata assente ibra se ne sta in vacanza nessuno interviene tutto viene perdonato leao fa il tweet fa leao fa il post contro quello contro quell'altro tutto regolari la società non interviene lo stesso i giocatori andavano attaccati allo spogliatoio perché ora si è creata una frattura ma una frattura importante la tattica l'equilibrio tutto va dopo tutto è oltre e va dopo quindi ragazzi come potete vedere qui la situazione è molto più grave cari tifosi milanista di quello che voi pensate voi pensate a emerso loial pensate a chukuezi pensate ai gol no c'è una cosa prima che è molto più grave di analizzare tutta quella che è la tattica è la situazione dei giocatori perché se due giocatori come leao e teo si sono permessi di fare una cosa del genere è perché non hanno amore per la maglia rossonera non hanno amore per la maglia rossonera questi sono stati capitano del milan sono stati capitano del milan a momento in cui quest'estate uno dei due o tutte e due ha manifestato l'idea per un secondo di andarsene andavano accontentati perché alla minima cosa come questa te l'avevo detto io volevo andare via qui sono svogliato e mille situazioni te ne vai via prendi giocatori che sanno cosa vuol dire stare al milan amare il milan e stare con la maglia rossonera prendi quei giocatori lì prendi i tonali non vai a prendere questi giocatori qua mercenari che alla prima difficoltà abbandonano il gruppo per non so cosa e vengano anche perdonati quindi il milan è inutile che mi parlate di emerso loial e tutte le altre situazioni tattiche come si analizzate come mi avete scritto in mille commenti il problema sta a monte il problema è uno spirito d'appartenenza che manca al milan da quando è andato via maldini da quando è andato via tonali manca lo spirito di appartenenza prima prendi quello prima ritorna a quello prima si torna a ragionare di tattiche di situazioni offensive e difensive il milan fonseca può mettersi lì anche tutta la settimana a spiegare a fare ma la domanda è è seguito dalla squadra la squadra crede in fonseca a mio avviso no a mio avviso no perché se no quelle situazioni te allenatori intervieni non vi è in conferenza stampa a giustificare un comportamento palese e quando il signor teo scrive sui social non avevo bisogno del cooling break andrebbe richiamato e dire oh ma cosa stai dicendo smetti di prendere in giro le persone il cooling break te stai con la squadra non te ne stai la quindi signori sono tutte situazioni che si stanno evolvendo di una società che ha completamente pezzo il filo nessuno interviene nessuno dice nulla questi fanno come cazzo gli pare questi fanno come cazzo gli pare il tifoso vede incredulo e incredulo che si possa verificare certe situazioni così al milan è incredulo perché il milan perché il milan quindi cara società milan caro ibrahimic mocanda chi ha potere di parlare i tifosi vogliano delle spiegazioni i tifosi tramite questo canale che ha voce in capitolo che magari viene visto perché tanti tifosi che sono su questo canale non hanno voce in capitolo cara società i tifosi vogliano delle risposte vogliano delle risposte il perché certe scelte a livello tecnico vogliano delle risposte il perché sale ma che se viene sceduto vogliano delle risposte il perché certi atteggiamenti che sono palesi sotto gli occhi di tutti vengano avvallati e giustificati e vogliano sapere il perché il signor ibrahimovic o chi per lui se ne sta in vacanza in una situazione così i tifosi vogliano delle risposte ma le vogliano ora in queste due settimane perché poi dopo c'è da affrontare tutta l'altra parte che è la tattica la tecnica prima però va risolto queste situazioni che vengano dall'alto perché se te non le risolvi e pensi di risolvere quelle d'otto o quelle dopo senza le fondamenta non ho mai visto costruire una casa senza le fondamenta che è la società ma se non c'è queste fondamenta neanche se arriva guardiola può risolvere questa situazione tattica se manca le fondamenta se viene messi al posto di ciucuese se viene holland al posto di abraham ma stiamo nelle stesse situazioni perché il contorno che fa la differenza perché il delirio che c'è intorno che fa la differenza questo dovete capire ragazzi prima va risolto il contorno poi si viene qui e si parla di tutte le situazioni tattiche si critica quello si critica quell'altro si fa un'analisi sul gol si fa un'analisi sulla parte offensiva difensiva dopo prima c'è un problema ben più grave e lo sai qual è il problema che molti non lo riescano a vedere molti danno la colpa emersolo rialla ciucuese perché sono alibi ma il problema sta a monte sa cosa diceva la minonna il pesce puzza dalla testa il pesce puzza dalla testa e voi che siete sul mio canale iniziamo a condividerli questi contenuti iniziamo a condividere fare tante clip ripostare sui social perché voi dovete avere delle risposte e siccome io tramite questo canale posso arrivare a chiedervi e a far sì che vi vi andate delle risposte lo dobbiamo fare tutti insieme perché questo non è il mio canale è il vostro canale di tutti i tifosi ora si parla di milan ma se c'è una situazione così per altre squadre come ho fatto per il napoli di conte si fa si fa le guerre si parla perché bisogna avere delle risposte ora ma per voi per voi che tutte le domeniche vi fate dei chilometri tutte le domeniche fate dei sacrifici per andare a vedere la vostra squadra e siccome si fa tutti questi sacrifici si vuole delle risposte quando le cose sono così evidenti vi saluto vi auguro una buona serata il tattico c'è